A VIA E' Ma io sto a studiare Ma i miei a te, come devi? Ma ci sarà scritto, no? E guarda E allora? Che ne so E allora telefona al dottore e fate di fare come si fiano Andiamoci Non beh e scusi quella medicina che ci ha dato non ci ha detto come si devono prendere per via anale ha detto per via anale via anale e che vuoi lo sai tu no e allora se no lo sai tu non lo so io non abbiamo capito bene come si prendono per via rettale ha detto che si prendono per via rettale per via rettale ma che vuol dire per via rettale io lo so tu sai no sa lui e allora ti telefona un'altra volta e quando lo spiegà andiamo ma no poi questo si arrabbia eh ma che vuoi fare o dovevo sapere come si viano queste cose no e va bene ma tutto me scusi non abbiamo ancora capito il concetto in culo te le devi mettere nel culo chiaro adesso? hai capito? ma no t'ho detto che si incazzava boh 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 Grazie.